Ciao Italia, questa sera vorrai mangiare frigo e polenta oppure la pasta alla norma e poi mangiare una bella pistacca alla Fiorentina e per finire una ciambellina al vino. Ma dovrò aspettare luglio per gastare tutte queste prelibatezze perché sarò proprio ogni vostra bel paese a partire dal 12 luglio in Turin tutta Italia, Udine, Perugio, Trento, Gardona, Riviera, Firenze e per finire allo splendido teatro antico di Tormina. Suonare con un'entera orchestra e tre sol-sister alla voce, ascoltarete e mititi brani di polis, messaggi in a botella, evre bradioteca, walking under the moon, non vedo l'ora di sedermi alla mia batteria e di sedermi a tavola. See you there!